In quei casi qualcuno paga, per essere onesti, un cavallo di battaglia. Anche se purtroppo o per fortuna le polemiche nonostante il VAR o la VAR ci sono e ci saranno sempre. Sicuramente è una grande vittoria e sicuramente ci sarà nel futuro dell'Europa. Bisognerà vedere però in quanto tempo arriverà in Europa, perché è veramente uno strumento importante che aiuta gli arbitri e che riduce almeno di un 50% le polemiche. Che poi alla fine, come diceva prima, c'è sicuramente un arbitro, c'è un uomo dietro e l'errore ci può essere, ma lo riduce sicuramente di nettamente. Ce ne sono meno di errori, ce ne sono meno. Ce ne sono meno. E solo in certi momenti. Anche se dobbiamo avere azzurro. I numeri. Perché è stato anche sbeffeggiato, vabbè. Comunque ha vinto la più forte, però... ...è il ciclo perché non lo vogliono più. E se invece Milan e Inter non si danno una svegliata, adesso c'è il momento. Anche la Roma... Allora, dovesse andare a Real Madrid. Paratici. Tutti e due. Fuori dalla Champions. Sicuramente ci sarà nel futuro dell'Europa. Bisognerà vedere però in quanto tempo arriverà in Europa, perché è veramente uno strumento importante che aiuta gli arbitri e che... In quei casi qualcuno paga. Per essere onesti. Il mondo probabilmente è questo sì. Un cavallo di battaglia. Anche se purtroppo o per forza riduce almeno di un 50% le polemiche. Che poi alla fine, come diceva prima, c'è sicuramente un arbitro, c'è un uomo dietro e l'errore ci può essere, ma lo riduce sicuramente di nettamente. Ce ne sono meno di errori, ce ne sono meno. Ce ne sono meno. E solo in certi momenti. Anche se dobbiamo... Per azzurro. ...le polemiche nonostante il VAR o la VAR ci saranno, ci sono e ci saranno sempre. Sicuramente è una grande vittoria. Sicuramente è sicuramente un uomo dietro, ci sono e sicuramente un uomo dietro, ci sono